da prima non potrai sapere che cosa significano e non lo saprai forse mai e noi non potremo mai dirtelo questi lampi improvvisi dell'anima come folgore fioca su nuvole candide a mezzanotte quando c'è la luna vengono in solitudine o forse sei seduto con un amico ed improvviso cade un silenzio nel discorso e i suoi occhi senza un guizzo ti guardano avete visto insieme il segreto egli lo vede in te tu in lui e così palpitate seduti per timore che il mistero vi sorga di fronte e vi fulmini come un folgore come quello del sole siate coraggiose anime che avete simili visioni mentre il vostro corpo è vivo come il mio è morto voi avete afferrato un sentore dell'etere riservato a dio stesso Marlo 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 Marlo